Campionato prima categoria Girone G, siamo alla seconda giornata, questo è lo stadio Fratelli Cardiello di Sant'Arsenio in Salerno. Le compagini che sono di fronte sono la squadra del Sassano Calcio in maglia bianca e quella del Real Contursi. Per quanto concerne la squadra del Real Contursi, una maglia russa, completamente russa, sia maglietta che pantaloncini. Albano, Albano in mezzo per Pirozzi, trova lo spazio Pirozzi per concludere con il sinistro ed arriva la prima rete della gara con il colpo magico mancino di Niccolò Pirozzi. Tra gli uomini più arretrati e poi un rilancio in avanti, buona la posizione di Pirozzi che può battere a rete, supera anche il portiere. Arriva la seconda rete di Pirozzi al 12esimo minuto di gioco. Intanto si avvia, entra in area Di Mieri, il tiro e la palla in rete, 3-0, proprio Caffaro che è di Montesano. Mentre adesso il numero 7 Ferrara Raffaele realizza la quarta rete. Adesso vedete questo bellissimo pallone messo in mezzo proprio da Stefano Trezza che ha fornito l'assist al giocatore De Stefano che realizza la prima rete. Colpo di testa ancora, spizzicato il pallone da Pignato a Trezza. Trezza riesce a rubare il pallone al proprio avversario, serve in aria. Il giocatore c'è la sesta rete della gara con questo triangolo tra Stefano Trezza, Giovanni Di Stefano e poi la conclusione finale con la doppietta di Raffaele Trezza. Gioco che in questo momento si sviluppa in avanti ancora con Stefano Trezza che ha visto un liberissimo, è bellissima questa azione da parte del Sassano Calcio con Stefano Trezza, protagonista di un cross al bacio per il suo compagno Giovanni Di Stefano. E quindi uno Stefano Trezza che è importantissimo e adesso arriva anche l'8 a 0 e la tripletta di Pirozzi. Sul numero 10 Salvatore Pignata è pronto ad opporsi Cristiano Astorino, parte il tiro e spiazza il numero 10 Salvatore Pignata, il portiere Cristiano Astorino, quindi 8 a 1. Mister Cammarano, due partite, 12 gol, un Sassano che riparte alla grande, però domenica già c'è questa partita con il Montesano. Diciamo che erano due partite sulla carta, quella di Laviano, diciamo che non conoscevo ancora la squadra, però poi si è dimostrata la nostra portata, le due partite hanno presso un percorso di uguale misura, queste squadre bisogna fargli subito il gol, abbiamo sbloccato subito il risultato e poi c'è andato bene fino alla fine. Un Sassano che ha costruito un organico intorno al gruppo del Vallo di Diano con due o tre elementi di fuori importanti di categorie superiori. Sì, quest'anno il Presidente ha deciso di fare in questo modo, di costruire gente locale di Padula, di Teggiano, di Sala, di Sassano e in più quei tre o quattro persone che riescono a fare la differenza. Quest'anno abbiamo incamerato parecchi ragazzini, oggi abbiamo finito la partita con 3, 96, 1, 95, abbiamo pure Trezze che è 92, abbiamo ringiovanito un po' i ranghi, però adesso ci sta andando bene, poi vediamo domenica già che ci attende questo derby e vediamo cosa succede. La squadra è abbastanza preparata, poi è sempre il campo che ci dà il risultato. Come mai il Sassano gioca sul campo di Sant'Arsenia? Perché a Sassano che aveva in gestione gli impianti sportivi ha lasciato tutto all'improvviso e è andato via e quindi in questo momento il campo è chiuso, bisogna vedere l'amministrazione come una loro cosa decida di fare e intanto ci siamo guardati intorno e abbiamo deciso di venirci a giocare qua a Sant'Arsenia. Bene, adesso parliamo dell'organico della squadra, una squadra costruita con ragazzi del territorio, con qualche giocatore da fuori importante, però è cambiata letteralmente il programma di Ricciardone dell'anno scorso che ha mantenuto la parola nella trasmissione della storia che abbiamo fatto. Sì, mi ricordo quella trasmissione bellissima che ti è fatta a casa mia dove io ho detto che da quest'anno iniziavo a investire sui ragazzi perché miro a fare l'anno prossimo questa promozione, ce la meritiamo e se tu guardi bene le date di nascita di questi ragazzi, l'80% sono ragazzi dai 16 ai 20 anni quindi abbiamo pensato bene di investire su questi giovani, giovani che grazie anche a te di aver collaborato a questa grande rosa che ne abbiamo costituito con due ragazzi che vengono già da Morgerate, ragazzi bravi, bravissimi proprio siamo contenti del tuo appoggio e del tuo aiuto che ci stai dando e miriamo questa grande vittoria e speriamo di arrivarci bene, va bene veramente. Grazie